salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft della progetto sul tre bini allora cosa ho fatto sono andato a cercare di vedere un video per capire quella quest niente alla fine dovevamo spingere un task che non avevo visto si diceva cosa fare e doveva ammazzare due zombie ho ammazzato due zombie ho consegnato la quest e mi ha dato qui ho cambiato ho messo un'altra chest e mi ha dato questo lo spell focus ho dovuto rifare questo perché guardando sempre la wiki questa qui non era stata sbloccata praticamente cosa succedeva con l'item traslocator come funzionava io piazzavo questo qui per terra esattamente così con una leva che non so dove ho buttato mi sa che l'ho proprio buttata perché è molto nervoso gli mettevo un pezzo di terra qua sopra è un altro item casuale qua lo linkavo l'item qua con questo qui qua switchavo con la leva e lui mi creava mi lo trasformava in un materiale della lordcraft facendo così si sbloccava appunto la trasmutazione lordcraft ed era semplicemente una terra adesso non ricordo qual è non la vedo comunque niente di importante si può anche riplicare ecco questo qui mi dava mi dava questa che dovrebbe essere questa ecco si può fare così quindi non è un problema l'ho fatta tanto è utile farvi vedere il crafting sempre ogni volta e quindi siamo a posto allora ha fatto un po di cose che poi non ho fatto niente ho fatto queste perché ci servirà a fare appunto questo cristallo finalmente perché è questo che ci sbloccherà tutto non mi ricordo neanche più per cosa l'avevo fatto ah si era questo era questo giusto per sbloccare finalmente l'astra sorse di mamma mia finalmente ci siamo non ci credo allora dobbiamo fare questo con questo con allo tre di questi ok 1 2 3 ho fatto un po di questi perché se non ce la facevo più 1 2 3 ok abbiamo l'energia non abbiamo un cazzo ce l'ha ciucciata tutta sti cosi maledetti dove sono qua meno male che ne ho un po tocca farli sempre qui è una roba esagerata 47 mila ce li ciuccia tutti vai perché sono tante macchine che lavorano però almeno così abbiamo fatto una bella scorta dopo queste li tolgo tutti li metto nella cesta così libero un po di cose 47 va bene ok rimettimelo via grazie e ormai ce ne è rimasto poco qui dopo guarderò che cosa serve sto coso ma adesso per adesso non ci serve la mod che siamo a posto allora questo è fatto e siamo tre e quindi lo già mettiamo qua perché serve per questo o crafting qui e vai poi cosa mi serve mi serve e tutti i vari colori quindi facciamo a con ognuno li facciamo e tanti saluti al piffero ah andiamo a farli come si fanno a devo usare questo ok stesso discorso di prima allora facciamo così vai quindi presumo anche l'ossidiana allora possi eccola qua e siamo a posto beh dai materiali dovremmo averli tutti uno dovrebbe essere questo uno dovrebbe essere il secchio dovremmo avere un po tutto allora togliamo sta roba qui purtroppo ah me lo fai mettere lì non lo so cosa serva comunque uno è a secchio con un po di questi che tanto sicuramente vorrà quelli presumo di sì diamo un po se così no così mi fa il il solito coso ok mi sono dimenticato quel cazzo si fa aspettate vediamo di farlo così questo qui si fa con 4 e questo e lo facciamo con 4 con questo e vediamo che succede può darsi non è ok questi ce li ha dati e uno è fatto poi torniamo dai piedi quello bianco si fa con la glowstone e e 4 di quelli glowstone facilissimo 4 4 5 prendiamoli ok non l'ho mai fatta a questo ah beh sì grazie dicevo a questo livello però comunque cerchiamo di fare tutte le cose fatte insieme così almeno le capiamo anche insieme ok anche questa è andata poi mi serve quello nero che non si faceva con l'ossidiana si faceva con l'ossidiana come immaginavo l'ossidiana questi qua e questo qua perfettico dammi anche questa grazie ormai mi ha fatto tanti po le quest che possiamo prendere mezzo abecedario questo qui si fa con la lava ecco mi sembrava che mancasse qualcosa io di secchi non ne ho più adesso li metterò qua andiamo a prenderci il secchio così prendo un secchio la lava tanto qua e quindi non è che faccia un'altra strada allora un secchio dovrei avercelo qui secchio omuchou omuchou c'è anche l'acqua ok ecco qui il secchio prendiamo la lava va come lava mi scusi lei mi dia un secchio grazie molto gentilo andiamo pure e vediamo un po' che ecco non ce la faccio eh ok quindi altri 4 di quelli eh ormai qui ormai l'antiliterra è finita eccoci qua per carità sta una volta sarà anche bella però in questo moppa che non è che mi piaccia proprio tantissimo e anche questa è fatta eh scusate sbagliato il pulsante come mio solito allora facciamo così adesso c'è quello aranciono l'aranciono si fa con un bel carbono beh fa anche rima insomma sì allora carbonio con l'aranciono eccoci qua questo qui e questo qui perfettico e anche questa è andata segna grazie molto gentilo adesso ah beh quello con l'acqua allora serviva quello con l'acqua so che ce l'abbiamo già e quindi tantissimo ma ne faccio un po' perché porca miserica mi stanno tutti quanti finendo e non so più come facere eh facciamoli così e facciamoli due così a meno li uso se no insomma rimangono le solitari e da poi brutto ecco qua ecco qua ecco qua così ne ho fatti un po' allora tac tac ok fatti tutti benissimo mettiamo via i secchi non lì dentro grazie ma qui dentro ah che pazienza e anche questi qua li mettiamo via allora ne prendiamo un pochino non tanti diamone 6 e abbiamo fatto quasi tutto cosa manica allora questo lo togliamo manica proprio l'ultimo che si fa così dio siano dato speriamo di farcela vediamo un po' andiamo qua andiamo qua oddio c'era e ne fa solo uno è tutto sto casino ne fa uno solo comunque ne posso far di più perché non ho fatto quelli la ok sbloccato dammela o tutti siano lo dati adesso posso fare il volo che su presumo sia molto più veloce però guarda quanti ne vuole mi tocca fall of camera che se no ci metto tutta la vita ragazzi e questo qui come si fa? ah devo impararlo ma io l'ho imparato white crystal allora aspettate io voglio capire perché lui mi dice imparalo ma io l'ho imparato come faccio a impararlo se l'ho imparato non ha molto senso dice completa io non ho mai avuto in mano non so meno che io si devo usare questo ma dovevi dirmelo comunque non so come andare avanti con le quest ragazzi si a parte che qui manca della roba questi qua come si fanno? col void vabbè tutta roba facile per carità eh però un contesto capire un pochino più le cose non è che mi dispiacerebbe spiegate un pochino un pochino male diciamo avrebbe avuto una spiegazione migliore mi guarderò bene come farla e piano piano faccio le quest allora questi questi le fareò il problema era che devo sbloccare questo per far finalmente la mia adorata mod cioè adorata la mod per andare avanti quindi togliamo via tutta sta roba che dopo la rifaremo non vi preoccupate che la voglio capire perché insomma ormai sono arrivato fino a questo punto voglio finirla solo che noi eravamo partiti per fare un'altra mod quindi capite la cosa il disagio allora per fare un'altra mod era questa e tu sei oh me l'hai sbloccata si erano dati tutti i santi non ci posso credere finalmente ovviamente ne vuole due ma posso farlo anche con l'acquamarina tutti tutti i santi siano rodati perché fanno un altro c'ho voglia oh andiamo via e ci ritornerò promesso ma in un'altra sede andiamo finalmente a fare la nostra astra sorse che è anche ora e dobbiamo fare così qui adesso abbiamo un sacco di roba eh meno male allora questo lo possiamo togliere grazie questo lo possiamo togliere grazie e possiamo fare il tomo il tomo facciamo così facciamo così oh questo me l'hai dato grazie molto gentilo adesso possiamo facere il che che ho il libro io il libro non ce l'ho ma lo posso fare ok grazie molto gentilo e facciamo così oh non ci credo finalmente eh finalmente posso fare la figura di merda era quello che volevo dire no eh sì 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 sono convinto che fosse quello allora andiamo pure qui eccoci qua quindi così così oh il nostro tomo è finito ragazzi dammi la cresta grazie molto gentilo ok se io facessi così ecco c'era ancora qui potiamo potiamo perché sono un giardiniere possiamo mettere e le nostre pergamene che troveremo che però le ha già imparate a meno così quando ho giocato io era era ci mettevano lì però ma chissà se ancora così questa è la astral benissimo possiamo incominciarla non vedevo l'ora eh sì logicamente viene sbloccato anche l'altro e qui abbiamo la prima cosa scoperta dovremmo avere diverse costellazioni scoperte esatto le abbiamo scoperte perché le pergamene comunque io le ho lette e lui me le ha memorizzate sono contento allora se non ricordo malo e ricorderò sicuramente malo c'erano due costellazioni che adesso ne vedo solo una quindi dovremmo scoprire l'altra qui ci sono le prime queste da fare oh che bello ritornare ai vecchi tempi allora vediamo scusa eh io non volevo ovviamente queste le avevamo fatti i semi ragazzi eh l'acquamarina è questo questo invece per farlo io mi ricordo che c'era da linkare una cosa allora se io adesso provo come mi ricordo io poi vediamo se le cose sono cambiate allora siccome noi abbiamo un macchinario che ci ha creato però non c'è bisogno che andiamo nel macchinario ma basta che andiamo qua il ferro ecco proviamo con un due intanto posso anche prenderli allora poi quello che mi ricordo io adesso torniamo questo eh era la la link ah la terza del collegamento questa qui che si fa in questa crafting table che si fa in questa crafting table eh cazzo il link me lo fai fare lì terza di collegamento quindi lo faremo più avanti eh qui come ho detto è cambiata la cosa allora queste le posso fare come si fa questa si fa così eh sì posso fare allora incominciamo a fare le cose che eh capisco che so e che posso spiegarvi questo è uno poi dobbiamo fare una crafting table specialo che si può fare in due modi vedete che c'è scritto starlight vuol dire luce della della delle stelle in pratica noi possiamo ma qui ce ne sono due per futuro di crafting per creare questo abbiamo bisogno di quei del tempio che abbiamo trovato nella nella cosa nella nella orlandia che c'era quel cristallo lo mettevamo qui vicino nella crafting table e ci permetteva nella crafting table di creare appunto questo in teoria funziona anche senza e quindi possiamo andare avanti allora assi ok facciamone quattro grazie e questo lo togliamo mettiamo una crafting table e siamo a posto le due le abbiamo e vediamo un pochino se possiamo fare il tutto si ce la fa fare e questo è importantissimo ho imparato la tua visione si espande hai imparato più carica l'esplosizione più di carica di più carica circa l'esplosizione scusate ragazzi sono dislessico abbiate molta pazienza con me allora ehm dove andiamo nel nostro posto che abbiamo dedicato quindi andiamo qua perché questo mi ricordo da quando avevo giocato la moda skywalk 3 che avevamo i video su canali sul canale che eh c'era da fare un un procedimento particolare allora intanto la mettiamo quale è l'angolo mi ricordo che forse potrebbe bastare qui vabbè al massimo l'ho sposto ragazzi non c'è problema insomma ok vedete che qui ha delle cariche dopo aumenterà con la notte si caricherà al massimo ma abbiamo degli strumenti almeno così diceva la wiki per aumentare la nostra carica anche di giorno ok è una cosa alla volta la facciamo quindi questo lo no non lo togliamo andiamo avanti con le quest perché sicuramente le quest ci danno qualcosa questo lo voglio fare ma per il momento allora dice di leggere l'astral tom perché io lo volevo fare ma non mi dai ecco mi ha dato esplorazione ecco cosa mi ha detto scusatela no non avevo capito cosa intendesse ok queste qui e queste sono tutte le cose che dovevo fare piano 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 ma quello che mi interessa a me in questo momento era appunto poter fare quell'ingotto vediamo un po' e qui non c'è quell'ingotto comunque la cosa che dicevo era questa questo cristallo qui quindi allora prima carta di costellazione e facciamo il tom e l'abbiamo fatto la secondo passo è questo ma è in italiano o non ci credo è in italiano mamma mia tutti siano lodati non ci credo proprio allora ho letto velocemente ci sta spiegando la storia qui la cosa interessante che dice forse piazzando un tavolo da lavoro vicino si potrebbero ottenere risultati interessanti quello che vi dicevo prima che per fare col crafting ma qui ce l'ha fatto fare anche in modo diverso scusate ricerca quindi ritorniamo qua tutto quanto è in italiano mi sono rimasto un attimo alibito costellazione che qui praticamente ci dice trovare i tempi di istruzione nel mondo ok scusatemi lo leggo un attimo vi faccio assunto allora in pratica ci spiega che noi durante l'esplosione del mondo troveremo questi tempi dove troveremo delle pergamene nei tesori in questo caso anche nei loot bag che ci saranno scritte delle costellazioni che noi impareremo dice anche che spesso ci sono le troveremo vuote perché sono incantate in modo che se noi già conosciamo quella pergamena la troveremo vuota in modo da lasciarla a chi viene dopo che non la conosce e la vedrà il contenuto dice che potremmo mettere il contenuto di queste pergamene all'interno del nostro tomo come stavo facendo prima ma non ne avevo comunque le ha memorizzate e quindi niente andiamo un altro po' avanti e vediamo cosa possiamo facere questo qui abbiamo letto questo qui dice i materiali grezzi vediamo un po' la roccia cititosa scistosa no cititosa so leggo vi dico allora niente spiegava cos'era l'acqua marina come si formava e come si formavano i cristalli questi qui dicono che sono attratti dalla luce questi qui lunare allora io vorrei fare come mi ricordo io poi vediamo se mi sbaglio o meno che è per creare il questo qua per creare questo qua questo qua esatto qui dice che ci vuole qui dice un'altra cosa invece ti vuole il trasmutatore e ci vuole effettivamente questo lanterna a prisma lente vediamo proviamo a fare quello che dice lui perché io sapevo che ci facevano in un altro modo vedete in base a cosa ci mettiamo lui trasforma le varie cose interessante se mi dici come però sarebbe anche più carino beh proviamoci intanto cosa ci costa provare allora proviamo a fare questo scusate qui ah ci vuole quello più avanzato ci vuole quello più avanzato sì sì perché non ci posso fare niente perché in modo che voglio provare io ci vuole il linker che non posso fare niente andiamo avanti come dice lui allora con le quest eppure ce l'ha da qua quindi dovrebbe essere vabbè non vuol dire però va bene andiamo avanti questo qui cosa vuole tu puoi trovare l'astra sorcery l'astra sorcery eh vabbè ho capito ve li ho già trovati e siamo a posto eh ok me l'ha sbloccata adesso abbiamo questo che mi è sbloccato siamo a posto a questo me l'ho proprio data vabbè in partenza e adesso abbiamo questo finalmente possiamo eccolo è questo che vi dicevo che ci darà luce anche di giorno e resonating wand ok facciamo la resonating wand e vediamo un po' cosa mi dici qui resonating barchetta resonante perché qui in inglese ah ok si fa così nel tavolo oppure nel tavolo normale beh se vuoi anche nel tavolo normale io non mi non mi tiro certo indietro insomma sì allora proviamolo a fare così ovviamente mi manca adesso mi da 8 miliardi di cose andiamo a prendere l'acqua marina va che è meglio ok l'acqua marina adesso la prendiamo più oltremmo possiamo fare quante ne vogliamo eccoci qua allora stavo dicionando per carità facciamo questa bacchetta ok fatta la bacchetta adesso mi darai anche questa questa serve per fare i crafting grazie a questa potremo craftare usare questo tipo di crafting table in modo che possiamo farlo insomma se no questa bacchetta non possiamo fare niente è un po' un problema ok quindi adesso vediamo cosa devo fare l'astatom l'astatom dice che devo leggerlo io dovrei fare il multiblocco adesso quindi devo leggere l'astatom vediamo se me lo dice qua o devo andare da un'altra parte vediamo un po' marmo frugginoso questo qui mi dici come farlo va bene non c'è problema però io volevo vedere un'altra cosa queste sono tutte cose che abbiamo già fatto o scusate quindi io direi di passare all'altra tanto questa è la scoperta che abbiamo scoperto abbiamo scoperto tutto oddio no siamo ancora scoperto scusatemi ma è veramente difficile ok ce l'abbiamo fatta oh alleluia allora facciamo una cosa una volta ok ragazzi ho cercato un po' e si in italiano almeno ho capito qualcosa le cose che dobbiamo fare adesso sono queste che servirà per avere un liquido specialo e un'altra cosa che servirà sarà questa che servirà appunto per poter avere luce anche di notte è una cosa bellissima allora andiamo indietro per gradi e facciamo questo che mi fai no non me lo fai fare ci vogliono allora ci vuole il chisel ah no io avevo già preparato l'altra volta tutto il materiale adesso piano piano scusate se ho avuto un attimo di problematiche ma mi sono trovato a fare una mod che non conoscevo e imparare in 448 e quindi è stato un casino il chisel è qui allora si farà tutto quanto col chisel e il marmo con questa mod qui non c'è problema ma quindi possiamo fare tutto allora ci servivano qui due dunque erano 4 adesso ne faccio un po' ragazzi non importa quanti siano ma quanti ne avevo già ne avevo già un po' qui ah ma ne avevo già un po' qua marmo e marble è la stessa cosa allora questi qua perfetto questi ci servivano poi cos'altro ci serviva per fare sto bidono vediamolo un po' me lo fai vedere ok grazie molto gentilo tre di questi e marmo decorato che si può fare anche così vabbè io lo faccio così e non c'è problema una crafting table non mi dispiacerebbe averla qui perché magari può essere utile perché dubito che si possa fare qui oddio ci posso provare però andiamo un po' ah si fa beh allora posso ah ci vuole la bacchetta magica eccedenti a lui dovrebbe funzionare eh andiamo perfetto beh se fa così è anche più divertente allora abbiamo anche questi e siamo a posto questi più questi cosa manicava perché non ricordo l'eglicus dovevo fare siamo messi bene questo qui scusate allora cristal beh questi abbiamo la farm l'acquamarina ce l'abbiamo ma io direi che abbiamo tutto andiamo a prendere soltanto il cristallino ma non ce l'avevo qui il cristallo si ce l'avevo qui scusatemi ma oggi non ci sono proprio con la testa non è che gli altri giorni ce ne sia di più però capite che è così allora questi li rompiamo tutti intanto non ci servono perfetto oh adesso mi andate solo due ma no una volta ah quelli che andiamo a trovare in giro ce ne andate solo tre in due bellissimo va bene non importa allora se io adesso facessi così e facessi così tu dovresti andare ma ovviamente non dovresti avere abbastanza energia stellare ci provo ma ne dubito fortemente oddio può darsi che me l'ha dato non ci vede che ce ne voleva meno di quello che pensassi oddio se l'ha dato perfettico questo qui ci servirà per ricevere il nostro fluido adesso io per adesso adesso io per adesso molto interessante per il momento la metterei in un posto che non rompa il cavolo la mettiamola qua e li mettiamo dopo serviranno a me ne serviranno di ste robe immaginate quanta io mi ricordo nella model skyblock è stato morire li metto sopra questo e lui piano piano si esaurirà rimpendomi di belle cose mamma mia nella model skyblock te ne mettevi uno ti faceva 20 litri questo non ha fatto neanche un bucket si è rotto subito mamma mia che brutta coscia allora vediamo un bello secchio mio caro vecchio amico secchio me ne dai un pochino di secchio grazie 12 penso sia più che sufficiente potete fare un conduit uno che entra l'altro che esce ma quasi quasi lo faccio allora un conduit e una cassa abbiamo già la cassa e siamo già a posto insomma si meglio di così cosa vogliamo insomma non lo so se funziona però ci provo tanto cosa mi costa insomma non mi costa mica niente mica lo pago insomma si allora così e non me lo fai mettere quindi il conduit non si può mettere no non me lo fa mettere peccato volevo automatizzare un po' le cose oddio metti una cosa con le sue casse così mi sposto quella là e sono a postolo così non devo andare a fare i chilometri ok grazie molto gentilo così da poco la tolgo almeno così sono le cose che mi salvano tutte qua mamma mia ho fatto una volata da panico ed ecco qui allora cosa che mi serve via il secchio quanto ho poco ci mette tanto in questo modpack vabbè andiamo avanti cosa devo fare col tomo il tomo ci dice scusate ho sbagliato che dobbiamo fare a parte questo che ci servirà quello ci servirà questo che questo qui raccoglierà la luce anche di giorno è molto interessante quindi ci serve questo ripetitore spettrale ripetitore spettrale si può anche facere cosa mi manica delle nugget ah questo come si fa con le plane ok facciamo tutto quanto adesso facciamo abbiamo un sacco di roba ragazzi se non la facciamo adesso quando la facciamo insomma si eccoci qua facciamo uno per lo stack ok plane fatte poi plane volevo madonna quante costruzioni plane è acqua marina e dovremmo farcela adesso ne faccio un bel ma 4 penso che siano sufficienti io che volata che ho fatto da panico non so se stacchino ci provolo si così va bene poi vediamo così e così devo fare ogni volta devo cliccarci devo cliccarci me ne fate due però quasi quasi perché la crafting è da uno non da due andiamo si me ne fai due alla volta beh dai non male esclusivando che c'è il sole e non c'è la luna direi che siamo andati piuttosto bene va bene facciamone un po' tanto qui di acqua marina ne posso fare quanto ne voglio e almeno siamo a posto ne fai solo due ma meglio di un caccio nel panno insomma si allora poi cosa ci serve tanto che mi fa ci serve delle nugget il marmo marmo a caso e delle delle plex che ho già quindi marmo prendiamolo a caso quindi marmo a caso le prendo due e cos'altro mi vuoi da fare le nugget le nugget ne abbiamo proprio da vendere solo che non mi ricordo più ecco le ne ho usate un po' perché mi si stava riempiendo così le ho convertite in oro cosa fa ah ho rilanciato quello scusate vabbè comunque mi servono non è che vanno a male insomma ecco qua facciamo anche questo spero basti dovrebbe bastare perfetto perfetto oh bene ah è una questa ovviamente questo è bello perché è un multiblocco che è interessante farlo e si fa esattamente così andiamo un po' a vedere esatto si fa così molto molto bello molto carino qui ci dice i materiali di cui sono fatti quindi uno di quelli sotto un marmo questo va messo di fianco vedete viene piazzato abbastanza vicino ad un altare una lente di vetro ecco il problema che devo fare è l'altare e quello è il problema più grande l'altare mi fai vedere come si fa perché tu ancora non me l'hai detto questo ok l'altare si fa ecco perché mi serviva capite mi serviva assolutamente quello quindi andiamo a prendere il secchio vedete che adesso è durato tantissimo ma non lo capirò mai un secchio perfetto poi mi serve uno di questi ottimo cos'altro mi serve dunque scusate era quello dopo che era no quello dopo non me lo fai vedere qui quindi lo tolgo tanto non serve a niente e andiamo su quello dopo quello dopo era questo qui ok questo qui si fa nella crafting league con questo secchio qui questo secchio qui allora quattro pilastri di marmo quindi ci sarà la mano e facciamo i quattro pilastri di marmo ovviamente devo avere il marmo perché se no con il capio che lo faccio ma eccedenti a me allora vediamone un po' e facciamo così quattro sono già questi li metterei pilastri di marmo eccoli qua perfettico poi cos'altro mi chiedi vediamo un po' mi chiedi due normali così che dovrei avere eccoli qua oh che bella coscia dovrei avere tutto ragazzi non ci credo che festeggiamo qui insomma si ecco qua mettiamo e qui dovrebbe crescere tra poco vediamo se si può fare lo stesso vediamo un po' no dobbiamo forza aspettare comunque il sole dovrebbe è proprio su in cielo che non vuole proprio andare via da lì eh vabbè faremo altro intanto io direi di ciselare un po' di cose visto che ci siamo ci servono questi ci servono un po' di cose adesso le voglio ciselare perché se no quando ce ne vanno a servire non facciamo mancacchio allora questo qui ci serve facciamo così così almeno mi sbarazzo poi 32 facciamo questo è tutto basta assorciare fino a qua qua è tutta l'altra roba che non ci serve a niente quindi cosa ci servirà mai questi qua non penso 32 ma 16 si di questi dove li ha messi qua grazie poi questi qua altri 16 e facciamo di questi perché potrebbero servire poi altri 16 non lo so marmo inciso questo mi ricordo vagamente che serva anche avevo fatto ok dovrebbe avere già un bel po' di roba e il sole sta scendendo qui dovrebbe iniziare a salire piano piano mettiamoci la nostra bacchetta magica eccola qui come ciappi mi sale un pochino vedete che sta facendo buio però qui ancora non sale devo farlo altare se ti dai una mossa grazie molto gentilo andiamo un po' così grazie a quei cose che possiamo fare ragazzi dopo anche di giorno siamo non dico pieni però ci andiamo vicino ci la fai? ci la fai? mamma mia che tristezza allora per fare questo cosa devo fare? se facessi un altro di questo così almeno sono tranquillo questo sono sicuro che va perfetto così dopo ne faccio e tanti saluti non ne ho più le planks le planks non ne ho più il problema ah si ecco qua siamo a posto facciamo così facciamo così facciamo così a me ne sono 4 quindi non è che sto perdendo tempo bravissimo fammene un altro e siamo tutti a posto ecco qua così intanto lui sta sta salendo la notte e scendendo il giorno oh grande e siamo a 4 quindi ce ne serviranno molti di quei cosi allora ritorniamo noi mettiamo questo qui non ci serve più potrei fare neanche 2 però ci serve più questo quindi vediamo se adesso mi fai fare no 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 ancora dai datti una mossa non vedo l'ho di usare quello dell'alcolica che decido io quando è giorno quando è notte se no non finiamo più qui vabbè faccio un taglio e ci vediamo dopo ok ragazzi sta salendo finalmente alleluia ancora non ci siamo non so esattamente quanto voglio mi dovrei far vedere comunque la barra dove vuoi che arrivi secondo me lo vuole pieno così ad occhio vabbè aspettiamo tanto ormai si sta rimpendo sempre di più il sole sta andando via per fortuna spero che se ricordo bene gli altari sono diversi e diventeranno più grande quindi dopo dovrò smontare tutto e sarà un bel casino dai sali salisci dovrebbe essere non ancora mamma mia che palle un'altra mod che ci metteremo cent'anni per farla ce la fai? dai che il sole sta andando via ok sta salendo vediamo se adesso va bene ma va neanche per il cazzo mamma mia che palle dai su forza sta salendo sta rimpendo andiamo niente lo vuole pieno dai abbiamo capito ok ci siamo quasi adesso andrà no lo vuole proprio pieno all'immelesimo adesso lo vuole più più maroni però ci sei pieno pieno ok sei pieno vediamo non va perché tu non va cosa eppure dice che i materiali sono questi cosa ho sbagliato ah adesso funzioni vabbè si vede che aveva proprio la luna piena come licantropi vabbè adesso lo sta facendo si trasformerà e quindi dobbiamo fare questa nostra struttura che sarà un bel dito eccolo qui allora vediamo cosa abbiamo bisogno dell'altare e va bene 8 marmo decorato e 22 marmo al carro scusate oh allora chisel 8 marmo decorato e ovviamente ne ho 16 e ne ho fatte 8 se li metto via così so esattamente quello che mi serve e non ne faccio in esubero prendiamo questo vediamolo qua allora vediamo un po' perché mi hai tolto un gruppo animalo ah me ne è giunto un altro adesso beh adesso prendiamo anche quello allora scusate eravamo all'altare che non so assolutamente dove sia eccolo qui ok siamo 8 marmo decorato 28 arco di marmo arco di marmo vediamo cos'è arco di marmo questi 28 ho detto 16 18 20 e 28 28 ok mettiamo questi arco di marmo che è questo arco di marmo 28 e ci siamo poi cos'altro vuoi 8 di quelli li abbiamo fatti 24 di mattoni di marmo 24 di mattoni di marmo 24 oddio eccoci qui mattoni di marmo dovrebbero essere questi perfetto oh dai che ci siamo quasi ragazzi 24 mattoni di marmo 8 pilastri li abbiamo fatti cioè li abbiamo fatti dovrei averli 8 mettiamo via l'esubero perfetto manca solo l'ultima cosa questa può andare qui si questa facciamo così perché non mi ricordo quante ne volesse 21 di marmo foliginoso il marmo foliginoso come si faceva con questo ok ci vuole il carbono quindi ha detto 21 diciamo così mi stai mettendo quello meno male era un casino ok rivediamo quant'erano 21 mi sembra si e ne ha fatto 23 ovviamente ecco tutto qua e così siamo sicuri che almeno uso quello che mi serve e dovremmo essere a posto sono 4 5 materiali io ne ho 2 4 2 4 6 mi sembra ovvio perché è questo che adesso non mi interessa ecco qua ok li abbiamo tutti ragazzi tutti per fortifare il multiblocco ma io penso che è meglio che lo facciamo nel prossimo episodio sennò viene troppo lungo come al solito quindi io ragazzi vi ringrazio per la pazienza vi ringrazio di seguirmi e come al solito vi invito a lasciare un like un commento se vi piace la serie fammi sapere cosa ne pensate e per adesso io saluto la sciva ciao ciao